Siamo in una situazione di paralisi e di confusione senza precedenti. In Commissione per quattro giorni abbiamo fatto finta di discutere, ma non abbiamo votato nessun emendamento. Ormai è chiaro, il governo sovranista sta facendo dietro fronte su tutta la linea, si sta facendo scrivere la manovra a Bruxelles. Non ci saranno i soldi, né per il reddito di cittadinanza, né per quota 100, né per le promesse irrealizzabili che hanno fatto agli italiani. Il PD chiede che vengano in Parlamento e che spieghino agli italiani come vogliono cambiare la manovra, dove trovano i soldi, dove tagliano.